good morning juventus auguri vecchia signora tanti anni fa nascevi il primo di novembre novembre è anche il mio mese sono nato il 16 e quindi io quando arriva novembre mi dovete perdonare ma sono sempre felice perché è un mese che amo è un mese che mi fa sentire il calore della famiglia ascolto musica dei genesis dei meridian degli iq dei pink floyd insomma tutta quella musica che mi crea una situazione di ovatta piacevole come quando voi si sentite abbracciati dalla donna che amate oppure se vi stringete al vostro petto un cane un gatto un animale una persona a cui tenete bene 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 era l'undici dicembre del 2013 l'ultima volta che la juventus uscì dalla champions league e scese in europa league 11 dicembre 2013 con antonio conte in quella disgraziata trasferta in terra turca contro il galatasaray e conte fu molto onesto e disse non dovevamo arrivare all'ultima giornata per giocarci la qualificazione sante parole caro antonio conte sante parole che si potrebbero essere si potrebbero trasportare tranquillamente quel pierla di quest'anno non si doveva certo arrivare a dire che la partita da vincere quella col benfica quando potevi andare tranquillamente a parigi giocartela invece tu hai dato forfè senza neanche giocarla mettendo in campo una squadra imbarazzante poi le hai perse praticamente tutte a parte una vittoria striminzita col maccabì quindi diciamo nelle condizioni di dover domani sera perché questo good morning avete visto il titolo no passaporto per l'europa league no e dobbiamo assolutamente vincere fare un risultato positivo o meglio non fare un risultato inferiore al maccabì perché altrimenti il 2 di novembre del 2022 sarà ricordato ancora peggio del dicembre 2013 di conte perché almeno la andammo in europa league e ci fermammo la semifinale a mio modo di vedere stupidamente per fare un record di 102 punti perché avevamo la possibilità di vincerla avendo anche la finale lo stadio quest'anno la finale non è lo stadio ma la juventus se dovessero io non credo io non credo tornare abili a ruolatico chiesa di maria e boba non credo su boba io ormai ho dato forfè io credo che boba non lo rivedremo più io credo che sia un giocatore finito ha avuto troppe infortuni ha troppe ricadute e mi ricorda molto il chiellini che provava a fare una partita due poi stava ferma un mese diciamo quei livelli di anche come di bala e di molto più giovane ma di bala sta per avvicinarsi al finale di carriera con tutti questi infortuni che ha perché non fanno la vita d'atleta fondamentalmente diciamo le cose come stanno non nel caso di chiellini ma nel caso di di bala e di pobassi allora domani sera dobbiamo staccare il biglietto per l'europa league perché dobbiamo staccarlo perché io mi sono preso una settimana di tempo per riflettere se volevo andare in europa league o no io credo che una squadra come la juventus come minimo come minimo dovrebbe andare in europa league come minimo ovvio che noi dovremmo essere sempre in champions league ma poiché abbiamo un allenatore che ormai è acclarato lo sanno anche i cugini dei sassi di matera che non è un allenatore da juventus ci siamo illusi nel quinquennio di vittorie perché avevamo una squadra talmente forte che probabilmente se l'avesse allenato a carletto mazzone o zan e zeman avremmo vinto lo stesso guardate cosa arrivo a dirvi due allenatori che uno era simpatico ma non era granché l'altro era antipatico e non era granché e sto parlando ovviamente di zan e zeman quindi neanche con questo diciamo risultato di vittoria siamo sicuri perché se il maccabì fa dei gol insomma o se la partita della juventus si butta male rischiamo di arrivare quarti quarti significherebbe il 2 di novembre essere fuori da tutta l'europa tutta tutta champions europa league ed essere fuori dalla lotta per la champions neanche dalla lotta scudetto perché nonostante le tre vittorie consecutive abbiamo rosicchiato qualche punticino al mino all'udinese e alla lazio ma per il resto è tutto rimasto invariato da ottavi siamo passati settimi e sinceramente col popolo di giocatori che gli hanno preso e con quello che ha chiesto e con i soldi che guadagna sinceramente è una vergogna è una vergogna quindi pretendo mai usato questo questo verbo pretendo l'accesso all'europa league caro massimiliano allegri altrimenti se non arriviamo neanche in europa league qua su questo canale inizierà una campagna nei tuoi confronti devastante dove ogni giorno io in un modo o in un altro o in un video o in un hashtag oppure in un post sulla community chiederò il tuo esonero immediato immediato senza neanche aspettare juventus inter se domani sera noi non ci qualifichiamo per l'europa league chiederò il tuo allontanamento perché per inadeguatezza per inadeguatezza ok per giusta caso licenziamento per giusta causa per inadeguatezza chiedo questo l'europa league è una competizione che ti può dare non tanto lustro quanto ti può dare sproni e idee per la futura campagna che acquisti della juventus e nell'ipotesi in cui ti vada tutto bene cosa che ritengo abbastanza difficile potresti anche vincendola arrivare in champions league e addirittura disputare la vera finale di supercoppa non quella cagata italiana che a me fa schifo sono contento di non farla più ma la supercoppa europea che si disputa con la vincitrice della coppa dei campioni quindi signori belli domani sera siccome domani mattina non ci sarà good morning juventus perché sapete che quando gioca la juve c'è la live reaction e analisi di pagelle domani sera dobbiamo assolutamente ticket to the europe il biglietto per l'europa altrimenti signori belli sono dolori dolori anche perché ripeto io credo che non sarò l'unico youtuber a iniziare una campagna mediatica ancora più forte ancora più veemente di quella che non è già esistente contro questo pseudo allenatore che io parafrasando la definizione di uno che lo stima ho definito peto vivente good morning juventus